e anche la colla in sé è fatta con il 98 adesso li coloriamo e decoriamo bene Elissa che stai facendo? stai fermo allora Elissa ti sei divertita? mi sembra che sei divertita molto Elissa no aspetta perciò noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ah mi sono testa non l'ho fatta non l'ho fatta muoio aspetta palla di calzini poi ti lamenti che non trovi i calzini li lanci e sarà mai? ma dovevi prendere il telefono alla mia pancia ok e vi spiegheremo come fare per potersi candidare e non ti dice non devo dire quella parola cliccate su partecipa al test se non si blocca il computer dovrebbe succedere qualcosa guarda che bello si è bloccato il computer e abbiamo fatto tutto questo shopping alla cartolibre abbiamo fatto tutto questo shopping alla cartolibreria oh ma non riesco a dire cartolibreria ma che non è così difficile ok rifaccio ci riprovo abbiamo fatto questo ci credo non è possibile no non è possibile che non riesca a dire questa cosa adesso dillo senza la frase del video cartolibreria di ebbiasi ci hai fatto ok vi metto pure il link in descrizione quali quaderni prendere che vuoi te pure l'orologio soprattutto aiutare no non voglio il tuo aiuto guardala voglio soprattutto aiutare oltre ad avere conversazioni interessanti ma io non voglio avere conversazioni interessanti con te sto facendo un video ok vediamo se ce la possiamo fare allora eh no però aspetta c'è dopo una cosa forse no non c'è va bene Marissa sta sta entrando nello zaino alla ricerca di una cosa non c'è 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 non c'è e forse è nell'altra tasca ecco che cosa hai preso Alissa ci siamo tenuti per ultime la cosa più bella aspetta ci siamo aspetta ok ragazzi ci siamo tenuti per tenute no che mi fa stucco ma io ero quella no 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 aspetta ragazzi ho cambiato idea ho cambiatissimo idea mi ammazzo veramente oh 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 no 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 forse su uno solo aspetta aspetta su uno solo così ma sono impossibile troppo piccolo vediamo oh 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 no perché si muovono troppo almeno il letto lo ferma un po' eh sì guarda le manate su quello specchio oh 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 ma cancelliamo ciao 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 ok ho già ordinato una console e un gioco così potrai iniziare subito vai al negozio che l'ho detto come un robot ma perché mi chiama giocatore ma questo è il cellulare e questo è il diario non è lo zaio quindi perché ho aperto questo Dov'è lo zaino? Questo? No. Dov'è lo zaino Daniel? Eccolo. A tutti per il vero. Uno. Uno la dovrai mettere sulla postazione da gaming ovviamente. Prendiamo qua e non ci va. Mettila vicino. Ecco la lascio. Posiziona spazio. Perfetto. Lo spazio fa tutto. Lo spazio è il nostro tutto fare. Allora poi mi sembra strano che debba appoggiare la roba per terra. Questo qua lo devi tenere, devi fare tieni. Esca, fai esca. Aspetta no ma vedi vuole che vada qua. Aspetta un attimo. Ora vedi lo prendo. Poi... Registra il video. E la console non la prendo? No, non devi prenderla. La console va bene che sta per terra. Allora vai là. Secondo me adesso lui me lo fa fare. Consol è leggero. Oh così. Ecco. Ok ragazzi. Quindi non li dovete appoggiare per terra ma li selezionate da qua. Hashtag eh... Day of War. DT. DT basta. Vabbè DT. Uffa. DT. Mi spiace a tutti gli inglesi che stanno parlando. No che stanno guardando. E ci vediamo al prossimo video e con... No aspetta. E con... Non mi piace. Vieni più, ciao. Non vedo l'ora di esplorare la città. No. Daniel mi prende in giro perché devo sempre cercare il tasto F8. E basta. Ehm. Però è anche vero Alissa che tu sei famosa per il fatto che qua... La cinesta sento casino. Allora. Psss. Ma apri 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 che sto parlando troppo. Ok stop. Come stop? C'è lì l'ambulanza. Sì ma c'è l'ambulanza. Aspetta fai passare l'ambulanza. Ferma. Eh puoi chiudere la finestra mo? Capite che abbiamo problemi di mente. Vai vai. Alissa non ce la fa. No 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 no. Ok vediamo un po' che hai trovato che... No vabbè un reggisè. Dai dai dai. Dai ma perché pensi? No ma questo è un canale per bambini. In cui si parlano di cose in cui si parla. A chi ha detto... Ma smettete di fare... Beh. La smettete di far cadere la roba per terra. Ok. Allora... Vieni. Ah no. No aspettate mi si è incastrata nei capelli. Aiuto. Aiuto. Questo video per oggi finisce qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.